Lo aspettavamo tutti e alla fine è arrivato lo starter di quarta generazione preferito da tutti. Non è vero, Torterra sempre sarà nel mio cuore, ma diciamo che è il preferito dalla maggior parte delle persone. Quindi benvenuti in un nuovo video su Pokémon Scarlato Violetto e oggi andremo a vedere le migliori build per andare ad affrontare in solitaria il nuovo Rai 7 Stelle che è arrivato nel gioco, cioè Infernave 7 Stelle Terratipo Roccia. Intanto l'evento ha avuto inizio chiaramente oggi, il 4 ottobre, e durerà fino al 6 ottobre, quindi questo weekend, per una prima ondata e poi si ripeterà per una seconda ondata il prossimo weekend dall'11 al 13 ottobre. Durante la seconda ondata, come ormai è usanza, saranno aggiunti anche i Rai di Blissey per farmare ovviamente Terraliti e anche Caramelle, quindi avrete i soliti Rai di Blissey di vari Terratipi facilissimi da sconfiggere, utili per farmare appunto quegli strumenti. Inoltre sono mantenute sempre le spezie nel Rai 7 Stelle, quindi avrete anche una probabilità di ottenere spezie da questo Rai di Infernave. Per prima cosa, per ottenere il Rai nel vostro gioco, solita procedura, andate chiaramente su Pokeportale, poi andate giù fino ad uno segreto e da qui aggiornate appunto gli eventi nel vostro gioco, schiacciando ricevi le news dal Pokeportale. In alternativa potete semplicemente collegarvi a internet se ne avete la possibilità. E quindi, come al solito, adesso andiamo a vedere, prima di partire, qualche dettaglio su questo Infernave. Chiaramente avrà l'emblema della Forza Assoluta essendo un Rai 7 Stelle, sarà a livello 100, non potete trovarlo shiny e ne potete catturare uno solo per salvataggio, ma potete affrontarlo più volte chiaramente per farmare gli oggetti che vi dà a fine ride. E quindi, se volete, potete unirvi al mio server Discord, il link è sempre in descrizione, per affrontarlo con altre persone, quindi magari batterlo più facilmente e farmare tante spezie molto più velocemente. Tornando a Infernave, ovviamente la sua tipologia è fuocolotta, ma il teratipo, come abbiamo detto, sarà invece roccia. La sua abilità è, come al solito, l'abilità speciale, ferro pugno, che potenzia le mosse basate appunto sui pugni del 20%, ma non so perché non gli hanno dato mosse basate sui pugni, quindi questa abilità è completamente inutile per lui. La sua natura è birbona e, per quanto riguarda le mosse, andiamo a vederle velocemente. Ha, per prima cosa, una mossa fuoco, fuoco carica, una mossa fisica che gli dà contraccolpo, ma chiaramente non è rilevante, e ha anche il 10% di probabilità di scottarci. Poi ha Sfera Pulsar, una mossa lotta speciale in questo caso, che è infallibile, ma se il Pokémon che usiamo ha l'abilità antiproiettile, saremo appunto immuni a Sfera Pulsar. Poi ha Laccio Erboso, una mossa erba sempre speciale, che ha una potenza, diciamo, non fissata e si basa sul peso del bersaglio, quindi più siamo pesanti più sarà potente. E poi ha una mossa roccia, diciamo, perché è terra scoppio, quindi sarebbe normale, ma essendo terra tipo roccia chiaramente diventerà una mossa roccia, e sarà una mossa fisica perché il suo attacco è più alto dell'attacco speciale. Poi come mosse addizionali ha Congiura per il più 2 in attacco speciale, Danza Spada per il più 2 in attacco, e Focal Energia per aumentare i brutti colpi, quindi le mosse addizionali sono totalmente di setup per essere più offensivo. Per quanto riguarda le azioni che fa durante il ride, abbiamo al 95% del tempo riduce la nostra terosfera subito, poi al 90% del tempo resetta le nostre statistiche, anche questo lo fa subito, diciamo molto utile, così dopo potremo setupare, all'80% del tempo rimanente resetta le sue statistiche e fa una Congiura, al 50% della vita rimanente fa una Danza Spada, e al 35% della vita rimanente fa una Focal Energia. Per quanto riguarda lo scudo, questo invece viene messo all'85% della vita rimanente, o all'80% del tempo rimanente, quando si verifica per prima appunto una delle seguenti condizioni. Quindi come avete notato non fa un turno 1, quindi molto buono, ci resetta subito le statistiche, è molto buono anche questo perché possiamo setupare, ma vi segnalo che il ride è un pochino dipendente dall'RNG, cioè dalla fortuna di base. Perché appunto, come ho detto prima, il 35% della vita rimanente fa una Focal Energia, e qui aumenta, diciamo, la sua probabilità di fare brutti colpi, e quindi verso la fine del ride può essere che qualcosa vada storto, ma ne parleremo un po' meglio dopo. Intanto, adesso che abbiamo visto tutti i dettagli appunto su questo Inferno, possiamo andare a vedere le build che vado a consigliarvi, che sono 4, ma diciamo che di base saranno 3, perché 2 sono molto simili. Prima di partire, come al solito, vi segnalo che domani mi potete trovare su Twitch dalle 10 a mezzogiorno, faccio le live tutti martedì, giovedì e sabati appunto dalle 10 a mezzogiorno, mi trovate come 6-dox, oppure c'è sempre il link nella descrizione del video, e appunto domani ci dedicheremo a fare i ride di Inferno. Quindi, se doveste avere qualsiasi problema a costruire queste build, o a battere questo Inferno, potete venire in live, vi darò sicuramente una mano, e anche se volete semplicemente andare a batterlo per farmare le spezie, appunto in live andremo a fare molti ride di Inferno, quindi appunto ci vediamo lì se vi fa piacere. Però adesso andiamo a vedere, dicevo, le build per andare a batterlo appunto in solitaria. La prima e la seconda sono molto simili, e abbiamo una Nilepe e un Manoferrea. Per quanto riguarda Nilepe, abbiamo Terra Tipo Lotta e strumento tenuto il Mirino. Il Mirino aumenta la probabilità di fare brutti colpi. Poi abbiamo come abilità, diciamo che è indifferente, potete dare sia Spirito Vivo che Forza Interiore, nessuna delle due vi sarà utile. Se avete anche una Nilepe con Agonismo potete lasciare quella, ma non vi sarà utile, quindi diciamo che potete lasciare qualsiasi abilità abbia. Per quanto riguarda la natura sarà invece decisa, e la distribuzione di EV sarà 252 in vita, 252 in attacco e 6 in difesa. Per quanto riguarda gli EV, controllate di aver maxato vita, difesa e difesa speciale, perché chiaramente lui è un attaccante misto, e ovviamente l'attacco. La velocità non vi serve perché sarete comunque più lenti, e l'attacco speciale chiaramente vi è completamente inutile. Per quanto riguarda le mosse, abbiamo poi Gran Fisico, Stridio, Assorbi Pugno e Fuoco d'Energia. Volendo al posto di Stridio potete dare Zuffa, perché in realtà Stridio io non l'ho mai usato nel raid, però sicuramente è una mossa comoda da avere, e comunque di tutte queste mosse, Assorbi Pugno e Gran Fisico sono delle MT, e volendo anche Zuffa se volete darla. Per quanto riguarda Gran Fisico ci darà più 1 in attacco e più 1 in difesa, Stridio diminuisce di 2 la sua difesa, solo quando non ha lo scudo alzato, Assorbi Pugno è appunto la mossa di attacco che ci farà anche recuperare vita, per questo non abbiamo dato la Conchinella, ma abbiamo dato il Mirino, e Fuoco d'Energia è una mossa che aumenta la nostra probabilità di fare brutti colpi. Quindi facendo Fuoco d'Energia e avendo il Mirino, praticamente il brutto colpo è sempre assicurato. Per quanto riguarda la strategia con Annile, dobbiamo fare turno 1, una Fuoco d'Energia, così subito per tutto il raid avremo probabilità aumentata di brutti colpi, compreso poi anche il Mirino. Poi fate 1 o 2 Assorbi Pugno per arrivare al punto in cui Resetta le vostre statistiche, perché non ha senso fare Gran Fisico se da lì a poco andrà a Resettare le vostre statistiche, quindi giusto per rimanere in vita, recuperare un po' di vita e appunto iniziare a caricare la Terrasfera, fate 1 o 2 Assorbi Pugno, da quando Resetta le vostre statistiche, fate almeno 2 o 3 Gran Fisici, di solito 3 non si riesce, ma se riuscite 2, e poi riprendete a fare Assorbi Pugno per continuare a caricare la vostra Terrasfera e recuperare vita, visto che avete fatto Gran Fisico, avete preso un po' di danno, e poi quando potete il prima possibile Terra Cristallizzate, da lì inizierete a fare molto più male, quindi recupererete molto più vita, e quindi se riuscite buttateci ancora 1 o 2 Gran Fisici per fare un po' più male, resistere un po' meglio i suoi attacchi e appunto potenziarvi. Da lì ricominciate a fare Assorbi Pugno e il raid è abbastanza vinto. Come dicevo, questa build funziona molto bene, può essere che dobbiate magari ritentare 2 o 3 volte, perché appunto al 35% del tempo rimanente lui fa foca l'energia, quindi voi vi siete aumentati la difesa con Gran Fisico, ma se vi fa brutto colpo non ne tiene conto, e quindi può essere che vi faccia magari 2 colpi di fila, un brutto colpo, qualcosa vada storto, e verso la fine del raid andate a perdere. Quindi ogni tanto potreste perdere, non è una vittoria assicurata con appunto Anni Leip. Per quanto riguarda mano ferrea, la strategia è abbastanza identica e anche la build abbiamo sempre terra tipo lotta e strumento tenuto in mirino, andremo molto più veloci con mano ferrea, perché come detto è simile, abbiamo ovviamente come abilità carica quark, poi abbiamo distribuzione di EV uguale, 252 in vita, 252 in attacco e 6 in difesa speciale, in questo caso queste cambiano, e ovviamente la natura è sempre decisa. Per quanto riguarda gli EV da maxare di mano ferrea, sempre consiglio vita, difesa, difesa speciale e attacco, chiaramente la velocità non vi serve perché sarete comunque più lenti e anche chiaramente l'attacco speciale non vi serve. Come mosse abbiamo panciamburo, ferroscudo, assorbi pugno e foco all'energia. Chiaramente assorbi pugno e foco all'energia hanno la stessa utilità che avevano su Anni Leip, poi abbiamo panciamburo per portarci direttamente a più 6 di attacco e ferroscudo per fare un più 2 in difesa. Vi segnalo che di tutte queste mosse ferroscudo e assorbi pugno sono dell'MT per appunto mano ferrea. E la strategia con mano ferrea è abbastanza simile, a parte che avete panciamburo e ferroscudo al posto di Gran Fisico, quindi turno 1 fate sempre una foco all'energia, così aumentate i brutti colpi tenendo anche il mirino, poi 1-2 assorbi pugno per arrivare al punto in cui vi resetta le statistiche, qua assolutamente non fate panciamburo finché non resetta le vostre statistiche, perché sarà completamente sprecato e perderete metà vita, quindi aspettate che resetti, e poi appunto appena resetta cercate di fare un panciamburo. Chiaramente dovete essere nella condizione di vita per poterlo fare, quindi se non ci siete magari fate un grido curativo e poi un panciamburo. Da lì riprendete a fare assorbi pugno, quindi recuperate la vita che avete perso con panciamburo, farete molto male perché appunto siete già a più 6 di attacco e terra cristallizzate il prima possibile. Se riuscite potete metterci appunto un ferroscudo ogni tanto, almeno uno ve lo consiglio, ma dovete appunto trovare la tempistica giusta per riuscire a metterlo, quindi non dopo panciamburo perché sarete già a metà vita, magari se dopo uno o due assorbi pugni riuscite appunto a essere a piena vita, piazzateci un ferroscudo perché dopo lui farà danza a spada e quindi è meglio portarsi a più 2 di difesa. Anche qui la cosa che può andare storta sono i soliti brutti colpi verso fine raid, quindi diciamo che il discorso che ho fatto su Annile si ripete abbastanza simile anche su Manoferrea. Un'altra cosa che può andar storta, ma questo vale per tutti i 4 Pokémon che vedremo, è se lui vi scotta, visto che fuoco carica può anche, abbiamo detto, scottare. Chiaramente se vi scotta su qualsiasi dei 4 Pokémon che andremo a vedere dovete fare un grido curativo perché la scottatura dimezzerà la potenza delle mosse fisiche, quindi sono tutte mosse fisiche quelle che vedremo su questi attaccanti, quindi dovete assolutamente fare un grido curativo se dovesse scottarvi. Procediamo con la prossima build che secondo me è la migliore ed è anche quella che appunto vi farò vedere per andare ad affrontare direttamente questo Rai Terracrystal ed è Commo-O. In questo caso abbiamo strumento tenuto con Kinella su Commo-O e Terratipo chiaramente lotta. Per quanto riguarda la sua abilità è Antiproiettile che appunto bloccherà Sfera Pulsar, quindi vi renderà immuni a Sfera Pulsar. Antiproiettile è una delle due abilità che può avere Commo-O insieme ad Antisuono, ma dovete dargli appunto Antiproiettile. Poi come natura abbiamo una natura Scaltra per aumentarci la difesa e la distribuzione di EV è 252 in vita, 252 in difesa e 6 in difesa speciale. Per quanto riguarda gli vita maxare con Commo-O, maxate sicuramente vita, difesa e difesa speciale che sono quelle che vi servono di più. Volendo potete maxare anche l'attacco per fare un po' più danno con Vasto Impatto, ma come vedremo Vasto Impatto non è lì per fare danno, quindi veramente la differenza sarà minima. Per quanto riguarda le mosse abbiamo Ferro Scudo, Vasto Impatto, Schiacciacorpo e Urlo. Potete sostituire a Urlo, Assorbi Pugno, ma secondo me è più comodo avere Urlo. Per quanto riguarda queste mosse, Vasto Impatto, Schiacciacorpo e Assorbi Pugno, se volete darlo, sono dell'MT, però io lascerei appunto Urlo. Infatti Urlo va a diminuire di 1 l'attacco e l'attacco speciale di Annie Leap. Ferro Scudo vi dà il solito più 2 in difesa, Vasto Impatto gli darà meno 1 in attacco e vi servirà anche per caricare la Terrasfera e Schiacciacorpo è la mossa principale di attacco che appunto utilizza la vostra difesa. Per questo abbiamo dato Natura Scaltra, 252 in difesa e abbiamo anche Ferro Scudo per aumentarci la difesa. Con Combo-O praticamente siete immuni a Sfera Pulsar e non ha nessun attacco per farvi male. L'attacco che vi fa più male è Terrascoppio-Roccia e vedrete non vi toglie tantissima vita. Quindi con Combo-O la strategia è molto semplice, è abbastanza difficile morire ed è praticamente impossibile perdere. Infatti turno 1 fate un Urlo, anche turno 2, diciamo, intanto che Resetta le vostre statistiche fate 1 o 2 Urli per diminuirgli l'attacco e l'attacco speciale. Poi appena Resetta le vostre statistiche fate 3 vasto impatti per appunto caricare la Terrasfera e andare a diminuire il suo attacco. Dopo fate 3 Ferroscudi per aumentarvi la difesa a più 6 e poi da lì Terracristallizzate perché avete già fatto 3 vasto impatti quindi potete Terracristallizzare e spammate Schiacciacorpo e non c'è più nient'altro da fare. Quindi da quando avete fatto i 3 vasto impatti e i 3 Ferroscudi dovete semplicemente usare Schiacciacorpo. Molto, molto semplice con appunto Combo-O. So che è un Pokémon del DLC quindi ho comunque voluto darvi qualche opzione che potete trovare nel gioco base ma sicuramente è molto, molto più facile andare a vincere con Combo-O e appunto vincete tutte le volte, non c'è da sperare che non faccia brutti colpi e così via. Chiaramente con tutti questi Pokémon, chiaramente con Annile e Pemanoferra è più utile, con Combo-O non è così necessario, anzi non serve, poi se succede è meglio. Dicevo, è chiaramente più utile avere dei compagni che possono avere prepotenza quindi se con Annile e Pemanoferra avete dei compagni con prepotenza sicuramente la strada sarà un po' più in discesa. Con Combo chiaramente è utile ma non è assolutamente necessario. L'ultima build che vado a mostrarvi, diciamo che non è la migliore ma funziona e ve la mostro semplicemente perché è identica alla build che abbiamo usato per battere appunto Insineroar. Quindi se avete già buildato questo Pokémon per Insineroar magari vi torna comodo poterlo riutilizzare anche per Infernape e in questo caso abbiamo il solito Malamar, abbiamo Tera Tipolotta in questo caso e strumento tenuto sempre la Conchinella. Per quanto riguarda la sua abilità abbiamo Inversione che è una delle due che può avere insieme a Ventose ma voi volete dare Inversione e poi abbiamo 252 EV in vita, 252 in attacco e 6 in difesa speciale. La natura è decisa per aumentarci sempre l'attacco. Per quanto riguarda Malamar maxate sempre l'IV della vita, difesa, difesa speciale e attacco. Le altre due non vi servono, sarete sempre più lenti quindi la velocità non vi serve e neanche chiaramente l'attacco speciale. E per quanto riguarda le mosse abbiamo Baratto, Bullo, Terascoppio e Troppo Forte. Vi segnalo che Baratto e Terascoppio sono delle MT per appunto Malamar però se avete già buildato questo Malamar appunto sarà identico a quello di Insineroar a parte per gli EV che vi consiglio di andare a modificare ma se non volete modificarli potete provare direttamente con il Malamar che avete buildato per Insineroar. Per quanto riguarda la strategia con lui sarà turno 1 fare un Baratto per appunto dargli inversione noi non vogliamo ferro pugno ma ce lo prendiamo ma la cosa importante è che gli diamo inversione così quando farà Danza Spada quando farà Congiura andrà a diminuirsi la statistica al posto che ad aumentarsela poi turno 2 potete fare un Bullo per diminuire subito il suo attacco e anche confonderlo che non è male e poi andate a fare Terascoppio finché non morite. Dovete morire perché volete appunto riacquisire l'abilità inversione che avete appunto appena scambiato con Infermit quindi fate Terascoppio giusto per caricare la vostra Terasfera non sprecate troppo forte visto che ha pochi PP e semplicemente andate a morire e caricate un po' la Terasfera. Da quando tornate in campo potete rifare invece troppo forte perché riavrete inversione quindi al posto di diminuirvi l'attacco e la difesa andrà ad aumentarvelo. Vi consiglio di aumentare i PP di troppo forte potete aumentarli a 8 e appunto andate a fare troppo forte per potenziarvi e Terra Cristallizzata è chiaramente il prima possibile e poi se doveste finire i PP di Terascoppio sia che siano 5 sia che siano 8 potete iniziare a usare Terascoppio tanto siete Terra tipo lotta e quindi sarete comunque super efficaci perché Terascoppio diventerà di tipo lotta e quindi anche questa è una build molto efficace devo dire magari un po' meno di combo o però appunto se l'avete già pronto potete direttamente provare con lui. Sicuramente Malamare e combo o funzionano meglio di Annile e Pe Manoferrea ma appunto gli ultimi due che ho detto sono disponibili nel gioco base e probabilmente avete una build già pronta anche di questi due perché sicuramente si usano molto nei raid 7 stelle e quindi magari avete una build già pronta anche di questi magari combo o è quello che potete non avere pronto però sicuramente è il più utile che potete usare. Detto tutto questo direi che possiamo andare ad affrontare il raid con appunto combo o vi dicevo appunto che useremo lui perché è il migliore che potete usare non dovete sperare nella fortuna e sicuramente è quello che vi consiglio quindi andiamo a vederlo con lui anche se come detto appartiene all'ELC quindi andiamo ad affrontare adesso Infernape in solitaria appunto con combo o. Ok abbiamo uno Staraptor come compagno di raid ci sarà sicuramente utile ma non è assolutamente necessario averlo io adesso continuo il raid perché tanto vedrete che combo o funziona molto bene partiamo sicuramente con un urlo dicevo combo o funziona assolutamente bene senza compagni con prepotenza qua ne abbiamo uno quindi sarà ancora più facile comunque adesso vedete che con un urlo andiamo a diminuirgli attacco e attacco speciale adesso lui resetta la carica della nostra terrasfera ma noi dobbiamo ancora attendere vedete che è andato beh qua abbiamo anche Staraptor quindi è andato a meno due di attacco diceva dobbiamo attendere che resetti le nostre statistiche lui ci fa terra scoppio perché è l'unica mossa appunto che può farci ed è quella che ci fa un po' più male diceva dobbiamo attendere che resetti le nostre statistiche quindi facciamo intanto un altro urlo per attendere che succeda questa cosa e poi potremmo cominciare a fare i vari ferroscudi di cui abbiamo bisogno quindi adesso ecco che va a resettare le nostre statistiche da qui possiamo ripartire a fare ferroscudo facciamo prima tre vasti impatti magari per diminuire il suo attacco vedete che adesso lui ci fa poco carica non ci fa assolutamente male perché appunto resistiamo l'attacco e poi andando a fare ferroscudo andremo a resistere appunto anche meglio questo attacco adesso primo vasto impatto gli diminuiamo l'attacco di uno e carichiamo la terrasfera perché comunque dobbiamo fare tre attacchi per caricare la terrasfera ci ha ridotto la carica della terrasfera ma questo non è importante perché non avevamo ancora fatto attacchi quindi sono comunque tre vedete che fa sfera pulsar e antiproiettile ci protegge quindi siamo immuni quindi se dovesse fare sfera pulsar appunto guadagnate anche un turno secondo vasto impatto fatto andiamo a fare il terzo per caricare completamente la terrasfera adesso e poi partiamo con fare appunto tre ferroscudi quindi molto setup con Como Home ma vedrete che poi quando iniziamo ad attaccare andremo appunto a finire il raid molto velocemente adesso lui mette lo scudo verosimilmente andrà a resettare anche le sue statistiche quindi tutti i vasti impatto che gli abbiamo fatto non sono serviti poco male tanto diminuirgli l'attacco non è così importante però è vero pensandoci adesso fa una congiura vabbè quello è l'attacco speciale non possiamo farci niente comunque dicevo ripensandoci adesso noi andiamo a fare i tre ferroscudi ma ripensandoci forse è meglio invertire forse è meglio fare prima tre ferroscudi e poi tre vasti impatti così vi portate a più sei di difesa e i tre vasti impatti rimarranno in memoria appunto rimarranno perché lui avrà già resettato le sue statistiche vabbè poco male se volete appunto essere un po' più puntigliosi potete invertire queste sei mosse fare prima tre ferroscudi poi tre vasti impatti perché come vedete i nostri tre vasti impatti lui li ha resettati subito dopo averli fatti ma comunque come detto cambia poco vedete che il danno è veramente minimo comunque l'importante è che non resetti i nostri tre ferroscudi quello è molto importante perché ci servono chiaramente per resistere ma anche per fare più male infatti anche i tre ferroscudi vedete noi siamo chiaramente a più sei di difesa lui sarà vabbè meno due di attacco probabilmente questo è dovuto a Staraptor non ai nostri vasti impatti comunque adesso terra cristallizziamo e andiamo a lanciare schiacciacorco vedrete che il danno è molto buono recupereremo vita grazie alla conchinella per quello dico che non serve dare assorbi pugno con moho si può anche dare assorbi pugno e quindi non darete la conchinella magari date non so la build cintura però comunque per me questa build funziona molto bene senza assorbi pugno vedrete che come detto recupereremo molta vita con schiacciacorpo e quindi non dobbiamo fare nient'altro magari ve ne salto anche alcuni perché appunto qua è solo questione di spammare schiacciacorpo recupereremo vita con la conchinella non ha senso fare vasto impatto perché tanto il suo danno è minimo siamo a più sei di difesa non serve assolutamente diminuirgli l'attacco non serve più a niente fare ferro scudo urlo non avrebbe effetto con lo scudo alzato quindi possiamo solo fare schiacciacorpo vedete che abbiamo recuperato tutta la vita e continuiamo semplicemente a fare schiacciacorpo l'unica cosa se dovesse scottarci vedete che ci fa un po' male chiaramente con terra scoppio ma noi recuperiamo subito la vita che ci toglie come vedete dicevo l'unica cosa se dovesse scottarci possiamo fare un grido curativo per appunto toglierci la scottatura quello sicuramente è utile adesso fa una danza spada ci farà un po' più male siamo comunque a più sei di difesa quindi non cambierà molto come vedrete e noi continuiamo a fare schiacciacorpo vedete che anche a più due di attacco non ci fa praticamente nulla comunque la mossa è resistita cioè la mossa poco carica non ci fa tanto male e siamo comunque a più sei non importa se lui è andato più due adesso magari vi salto uno o due schiacciacorpo perché qui tanto andrò solo a sparmare schiacciacorpo e ci vediamo appena arriva magari in vita rossa ecco adesso abbiamo rotto lo scudo verosimilmente questo schiacciacorpo sarà la mossa che andrà a ucciderlo andiamo a vedere comunque se non fosse questa ne possiamo fare un'altra no abbiamo già vinto perfetto vedete che i pipì di schiacciacorpo non sono neanche da aumentare e si batte molto velocemente c'è ancora molto tempo d'avanzo e molto 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 affidabile molto semplice appunto usare questo commo adesso dove lo mettiamo questo annide? direi in fastball ci sta bene direi che sono i suoi colori sì lo possiamo mettere in fastball catturato adesso andiamo a vedere se ci ha dato delle spezie perché eccole qua ne abbiamo una come vi dicevo nel drop ci sono anche le spezie quindi ottimo anche per formare spezie nascoste in questo raid e con questo abbiamo catturato il nostro inferno e sette stelle con l'emblema della forza assoluta questo è il terz'ultimo starter che manca infatti mancano ancora torterra e fraligator dopo di lui quindi spero appunto che arrivino presto anche gli ultimi due così vedremo dopo cioè una volta che hanno finito gli starter cosa andranno a portare nei raid sette stelle magari altri pokemon magari altri pseudo leggendari come dragonite oppure faranno i tre starter di paldea potrebbe essere che facciano anche quello quindi avremo altri tre starter dopo chissà cosa andranno a portare quindi appunto spero che passino presto questi ultimi tre starter per vedere cosa si inventeranno dopo comunque spero che questo video vi sia stato utile che le build che vi ho mostrato vi siano state utili fatemi sapere appunto nei commenti se avete provato queste build o se avete provato altre build che vi sono state utili così appunto darete una mano a me e a chi viene a leggere i commenti e prima di chiudere vi segnalo solo che anche corailon può essere utilizzato in particolare per fare una strategia da due hit ko in solitaria vi segnalo quindi non in gruppo però appunto magari questo lo vedremo appunto in live domani non ve lo mostro perché appunto è un leggendario magari se avete violetto appunto non avete accesso a corailon comunque vi segnalo che so che corailon si può utilizzare so che funziona molto bene ma appunto non ve lo mostro nel video volevo mostrarvi pokemon che sono un po' disponibili per tutti magari non leggendari appunto però domani in live magari appunto andiamo a vedere anche la build di corailon detto tutto questo vi ringrazio di aver visto il video se avete voglia ci vediamo in live domani e a presto per un prossimo video e a presto per un prossimo video grazie a tutti